Per gli immigrati ospitati sotto le tende alle Torricelle tra pochi giorni il trasferimento in altra struttura. Il prefetto di Verona ha parlato di lavoro per ampliare il sistema di accoglienza. Prosegue la serie di testimonianze alla vigilia dell'importante appuntamento con la GMG a Lisbona. Sentiremo le parole di Fra Adrienne dell'Opera Don Calabria. Presentato questa mattina a Verona è il progetto denominato da Zenit a Nadir per il recupero di ragazzi autori di reato. Buonasera, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telepace. Come sentivate dai titoli apriamo parlando di immigrati. Gli immigrati che in questo periodo hanno trovato rifugio sotto delle tende di fortuna sulle Torricelle. Tra pochi giorni queste persone saranno trasferiti in una struttura sicuramente più sicura. Il prefetto di Verona, Cafagna, ha parlato di lavoro per ampliare la possibilità di accogliere gli immigrati e ha espresso anche l'auspicio che a partire dal comune capoluogo si attuino collaborazioni per trovare soluzioni a questi problemi. Il servizio di Giacomo Biancardi. La situazione è seguita con grande attenzione e con grande cautela dalla prefettura. Siamo in una fase particolare, gli arrivi sono numerosi in tutta Italia e quindi anche nella regione Veneto e nella provincia di Verona. Noi stiamo lavorando per ampliare il sistema di accoglienza. E' chiaro che con arrivi ravvicinati si può determinare, come si è determinato in un caso, la necessità di sistemazioni provvisorie, di sistemazioni temporanee che però non fanno mai venire meno un'accoglienza che sia un'accoglienza dignitosa. Nel caso di specie, si riferisce alle Torricelle, sono state sistemate delle tende che adesso stiamo già sostituendo ed eliminando in prossimità di un bene demaniale dove già esiste un CAS. Quindi gli immigrati hanno potuto usufruire di tutta l'assistenza e di tutti i servizi del centro di accoglienza straordinaria e le tende sono state usate per qualche giorno proprio per dargli intanto un'ospitalità di notte. Va detto che sono tende messe a disposizione dell'aeronautica militare che usufruiscono i sistemi di raffrescamento e quindi per tutto il resto gli immigrati hanno potuto utilizzare i servizi comuni della struttura centrale del centro di accoglienza straordinaria. Io conto che nei prossimi giorni sarà possibile già il trasferimento in un'altra struttura in provincia che abbiamo già individuato con il supporto dei comuni. Ecco, mi voglio soffermare proprio su questo, sull'importanza del ruolo dei comuni e io credo che a partire da Verona, dal Comune di Verona, è necessario che ci sia un passo avanti e che quindi il Comune collabori e cooperi finalmente concretamente anche per cercare di trovare delle soluzioni. Questo va nell'interesse di tutti, va nell'interesse della collettività, è necessario dare una risposta di sistema che coinvolga tutti. Proseguiamo con un'altra notizia. Questa mattina sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Fumane i funerali di Don Giuseppe Mascanzoni, sacerdote diocesano di 92 anni, defunto sabato 15 luglio nel reparto di medicina dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar. Don Giuseppe, nato a Fumane nel 31 e ordinato sacerdote il 1 luglio 1956, è stato vicario parrocchiale a Caselle di Pressana, Belluno Veronese, Busolengo e Villafranca, poi è stato parroco a Castellaro Lagusello e missionario fideidonomo per 13 anni in Uruguay. Al rientro in Italia ha retto poi anche altre parrocchie come quella di Sant'Anna d'Alfaido e poi di Santa Lucia di Pescantina. E domani ci sarà un altro funerale nella nostra diocesi di un altro sacerdote, Don Antonio Peroni, di 86 anni, è mancato nella serata di lunedì scorso all'ospedale di Legnago. I funerali che saranno presieduti dal Vescovo saranno celebrati domani mattina alle 9 nella chiesa parrocchiale di Nikesola. Ed ora proseguiamo, proseguiamo la nostra carrellata in queste settimane riguardo la prossima giornata mondiale della gioventù. Proseguono quindi le testimonianze, vogliamo andare a conoscere questi ragazzi che parteciperanno al grande happening nella capitale portoghese. Oggi vi proponiamo le parole di Fra Adrienne dell'Opera Don Calabria. Saremo i 30 giovani della nostra congregazione e andremo insieme ai giovani della diocesi di Verona e parteciperemo a questa GMG di Lisbona. Come sarà questa GMG? Sapete già cosa farete e dove sarete là? Allora, saremo ospitati nella parrocchia del Don Calabria che c'è lì a Lisbona, tutti i giovani di Verona. Siamo molto contenti di partecipare, di incontrare giovani di tutto il mondo, di incontrare il Papa. Una delle belle iniziative di questa GMG è anche la fiera vocazionale, che è una piazza grande. Ogni congregazione avrà a disposizione uno stand vocazionale per presentare il proprio carisma, il proprio fondatore e anche noi come Don Calabria andremo lì a rappresentare la nostra congregazione. E cosa sperate per i giovani del Don Calabria che partecipano? Che evento sarà questo? Quanto può dare loro per la loro vita? Allora, speriamo che serva da motivazione per tutti loro. È una grande opportunità per incontrarsi e conoscere i giovani di tutto il mondo. E speriamo che questa esperienza possa arricchirli e motivarli per la loro vita e per costruire anche un mondo migliore. Domani appuntamento importante per l'azienda ULS9 Scaligera all'ospedale di San Bonifacio. Ci sarà la cerimonia di donazione di un ecografo portatile. Sarà donato al reparto di geriatria dell'ospedale Fracastoro da parte della famiglia Ferrovi. Ed ora un progetto davvero importante che è stato presentato questa mattina. Il progetto denominato da Zenit a Nadir per il recupero di ragazzi autori di reato. È stato presentato questa mattina in Sala Razia Verona il progetto denominato da Zenit a Nadir. Si tratta di un'importante iniziativa per il recupero di ragazzi autori di reato. E vede impegnato in prima fila il Comune di Verona, la Fondazione Don Calabria, oltre al centro per la giustizia minorile di Venezia. Un progetto che per la Sala Verona interessa una quarantina di ragazzi. Un progetto molto bello che coinvolge non solo Verona ma è distribuito su molte parti del territorio. Quindi arriviamo fino a Mantova, fino al Trentino, a Trento. Quindi una grande zona dove questi ragazzi vengono presi in carico, arrivano da autori di reati, vengono recuperati, vengono immessi e diventano delle risorse si stessi della comunità in cui sono situati. Vengono presi come? Perché la cosa è questa. Sono assegnati o seguiti direttamente dai servizi sociali del Comune o dalla giustizia, dal Tribunale. e quindi vengono aiutati con tutto un insieme di operatori e non solo operatori ma anche il contesto in cui queste persone si collocano, ad esempio con interventi lavorativi. Poi ci saranno delle storie che verranno raccontate perché è bello sentire parlare i protagonisti, sentire le storie di chi ha passato un periodo di questo tipo. Sono 43 ragazzi fino ad oggi ma il progetto va avanti e che divengono delle risorse si stessi per la comunità in cui sono situati. diventano delle persone che a pieno titolo diventano cittadini, cittadini positivi e che addirittura ripartono dal reato che hanno commesso. È un progetto ambizioso perché cerca di mettere in rete enti del terzo settore, enti locali e servizi del Ministero della Giustizia in una nuova presa in carico di questi ragazzi che hanno commesso dei reati nell'ambito minorile. E quindi che cosa farete concretamente? Abbiamo istituito una rete di supporto, di accompagnamento di questi ragazzi nella presa di conoscenza e di responsabilizzazione del fatto reato e poi li accompagniamo nell'ottica riparativa. E quindi cerchiamo insieme ai ragazzi di trovare le soluzioni più riparative possibili in funzione del reato che hanno commesso. Una realizzazione questa fatta in collaborazione con? Abbiamo una rete importante tra enti del terzo settore, siamo in 50 partner distribuite sulle due regioni più il Trentino e in ogni territorio c'è l'ente locale, a volte c'è l'USL, a volte il comune di residenza dei ragazzi. Proseguiamo con un'altra notizia. Questa mattina in Prefettura è stato siglato l'accordo per un presidio unitario nell'ambito delle iniziative del tavolo di coordinamento dedicato al monitoraggio del piano nazionale di ripresa e resilienza. L'accordo, sottoscritto dai sindaci del territorio veronese, avrà l'incarico di svolgere attività di supporto ai comuni per quelli che saranno gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione tra le iniziative previste, anche quelle di formazione e poi di divulgazione. Per il veronese il PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, corrisponde a fondi per 106 milioni di euro. Si tratta di un'opportunità importante per tutto il territorio. Per questo, stamani in Prefettura è stato siglato un accordo per un presidio unitario nell'ambito delle iniziative del tavolo di coordinamento dedicato proprio al monitoraggio del PNRR. Il tavolo di coordinamento, sottoscritto dai sindaci del territorio veronese, avrà l'incarico di svolgere attività di supporto ai comuni per quelli che saranno gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione tra le iniziative previste, anche quelle di formazione e divulgazione. Oggi ci sono due passaggi importanti. Intanto la definizione e la formalizzazione del protocollo fra Prefettura e Direzione della Ragioneria Territoriale dello Stato per la Costituzione dell'Ufficio che monitora tutte le attività finanziate dal Ministero dell'Interno in favore dei comuni nell'ambito del PNRR. Parliamo di oltre 106 milioni di euro che si riversano su tutto il territorio per interventi di rigenerazione urbana, quindi di miglioramento delle aree urbane comunali e per interventi che si definiscono di resilienza, ripresa e efficientamento energetico dei tessuti urbani. Quindi interventi importanti che segnano un salto di qualità notevole per i territori e per le comunità che vivono sui territori. L'accordo che va a suggellare il rapporto istituzionale tra Prefettura e Ragioneria Territoriale dello Stato per supportare i comuni nella attività di soggetti attuatori che realizzano le opere finanziate con i fondi del PNRR. C'è un rapporto quotidianamente con i comuni che gli uffici assicurano e il personale assicura quotidianamente e fornisce le risposte laddove possibile ai comuni in ordine ai quesiti che pongono. In chiusura la pagina degli spettacoli torna Rigoletto con un cast stellare, penultima rappresentazione dell'opera nel nuovo allestimento del Centesimo Festival firmato da Antonio Albanese e diretto da Marco Armigliato per un'unica serata. Ci saranno artisti d'eccellenza, protagonista il baritono Luca Salsi e poi ci sarà l'atteso debutto areniano del tenore Juan Diego Flores che interpreta il Duca. L'appuntamento è per domani sera alle 21. e poi domenica 23 sarà possibile ancora udire e ascoltare Flores in un galà dedicato al suo funambolico e virtuosistico repertorio che abbraccia il bel canto italiano e l'opera francese con un cast sempre di eccezione. E con la notizia riguardo ante la stagione lirica andiamo a chiudere il nostro TG. Grazie per averci seguito e arrivederci a domani. Grazie per aver guardato il video.